Dovrà risercire oltre 100.000 euro lo Stato e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La condanna in via definitiva è stata inflitta in appello dalla prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti. Il danno era reale riguardo alla vicenda dell'illegittima nomina a dirigenti responsabili della sua segreteria di quattro vigili urbani. I quattro erano in servizio presso il Comune di Salerno e svolgevano mansioni di autista. In un primo momento gli agenti di Polizia Municipale vennero distaccati in posizioni di comando presso la Regione Campania per svolgere proprio le mansioni di autista di De Luca. Successivamente però sono stati contrattualizzati come responsabili di segreteria nell'ufficio di diretta collaborazione della Presidenza della Giunta regionale. In quella veste venne loro corrisposto un'indenità dirigenziale continuando, secondo quanto poi emerso dagli accertamenti del nucleo di Polizia Economico-Finanziare della Guardia di Finanza di Napoli, a svolgere esclusivamente le mansioni di autista. La sentenza di secondo grado ha riformato il giudizio di primo grado che si era concluso con la condanna del governatore della Campania alla corresponsione di un danno erareale stimato di 59 mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza di Napoli sono state coordinate dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti con i pubblici ministeri Davide Vitale e Raffaele di Faienza. Nella sentenza si legge che deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, la condotta serbata nella vicenda di cui è causa dal presidente De Luca non sia connotata da dolo, bensì da mera colpa grave. Il governatore della Campania ha sostenuto insieme con i suoi avvocati di ritenere più funzionale ed appropriato per le sue esigenze una segreteria mobile maggiormente rispondente all'impostazione dinamica impressa dalla sua attività. La Corte dei Conti non è stata d'accordo.